Sono andati avanti tutta la notte. Grande fratello, Giglio e Giulia senza freni oramai. Le telecamere riprendono tutti e i loro movimenti sembrano abbastanza eloquenti. Ma andiamo con ordine perché quella tra Giglio e Giulia sembra un'attrazione fisica molto forte, ma non tutti sono sicuri che poi per il ragazzo ci sia davvero del sentimento. Eppure sembra evidente che dopo notti come queste, il passo per diventare una coppia è alquanto breve. Ma cosa è successo in pratica? Proprio quello che immaginano tutti, i due hanno dormito assieme, ma a differenza delle altre volte, questa volta i movimenti sono stati come dire. Molto esaustivi. C'era infatti, e in alcuni filmati sui social si può vedere, una certa regolarità. Noi non possiamo, ma su x qualcuno ha postato il video. Niente di male, ci mancherebbe, se non fosse che Giulia fuori ha un ragazzo in carne e ossa, non un Mark Altagiorone toscano insomma. Quest'ultimo le avrebbe regalato un anello da 50.000 euro, a dire della giovane. Grande fratello, Giglio e Giulia senza freni, avanti tutta la notte, si tratta di un quarantenne toscano fuori dai giri televisivi. Ma la ragazza a riguardo dice anche, è stata solo una frequentazione estiva, ci siamo detti che ci saremmo aspettati dopo il reality ma lasciandoci le porte aperte. Io mi sento molto libera. Posso decidere liberamente di avere tutti i morosi che mi pare. C'è una grandissima intesa con Giglio, il rapporto sta crescendo ma con buone basi, sincerità, intesa, complicità e semplicità, dice poi Giulia, è un rapporto puro. È una frequentazione tra due persone che si vogliono bene, al di là dell'attrazione fisica, punto punto punto, non parliamo di queste cose, il nostro rapporto è fatto di ascolto e comprensione. È presto per mettere basi solide per costruire qualcosa, per ora mi va bene l'amicizia. E ancora, ho paura di ferire me stessa, questa persona si l'ho lasciata fuori, ma io ora vivo qui e non voglio precludermi niente, conclude la ragazza. Con quella persona fuori non ci sono state promesse, ci siamo detti di vedere le cose come vanno, di vivermi tutto al 100% e se sarà, sarà. Una volta finito questo percorso, vedremo se sento le stesse cose di prima. Adesso non le sento. Voglio pensare a me stessa. E pensare che proprio stasera, prima di queste immagini, i due avevano anche discusso perché il giovane, dopo averle dato la buonanotte, non era andato a dormire con lei. E invece è andata a finire diversamente. E invece è andata a finire diversamente.